200 aziende tornano in presenza per la più importante vetrina del vino made in Tuscany e by wine alla fortezza da basso di Firenze. L'evento è promosso da Regioni Toscana insieme a Camera di Commercio di Firenze e organizzato da Promo Firenze con la collaborazione di Fondazione Sistema Toscana. Tornano così a incontrarsi in sicurezza i produttori e i buyers. Tornano a degustare quello che non è solo un prodotto trainante per l'export regionale ma anche un elemento distintivo dell'identità toscana. Un vero e proprio ambasciatore di eccellenza nel mondo insieme alle aziende piccole e grandi che lo producono. Quando parliamo del 12% di esportazioni attraverso il vino in una fase di ripresa come questa ci rendiamo conto che il vino è protagonista nella sua produzione in Toscana di quello che possono essere i mercati internazionali che lo raccolgono e danno questa grande spinta. Questa manifestazione è molto importante perché al di là dei grandi nomi del vino che hanno la loro catena per farsi conoscere in tutto il mondo questa è una manifestazione che sulla piccola e media produzione che spesso si identifica come qualità riesce a creare l'incrocio qui in Toscana, qui alla Fortezza da Bassa Firenze fra i 110 buyer e i 200 produttori. Siamo finalmente riusciti a tornare in presenza a garantire che il vino venisse assaggiato e raccontato direttamente dalle aziende ai buyers ma tutto si svolge direi rispettando le distanze con la prenotazione degli incontri tra buyers e tre aziende, più di 200 aziende, 100 di queste che fanno già biologico, buyers che arrivano da tutte le parti da più di 30 paesi del mondo.